Buongiorno a tutti, oggi è una giornata veramente ventosa, potete vedere il mare lo stesso, ormai l'estate è finita e quindi faremo un bel autunno-inverno, qui purtroppo il mare passa subito dall'autunno all'inverno non c'è un grande autunno qua, adesso vi faccio vedere un po', questa è il mare di oggi, c'è il vento che si viene malissimo, qua c'è un vento fortissimo è un vento fortissimo è un vento fortissimo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.